Si è svolta a Villa Caracciolo a Posilli, tipo una serata dedicata all'arte culinaria, Chef & Party, tutto il bello ed il buono dell'estate, ha messo a confronto sette chef per una serata all'insegna della sperimentazione con prodotti tipici napoletani. Bruno Sganga è un famoso enogastronomo, ci parli proprio di che cos'è questa serata? Battuti a parte la serata l'hanno chiamato in effetti Cenerentola perché nelle sue origini doveva terminare a mezzanotte. Siccome siamo a Napoli dove ognuno di noi splendidamente ha vivacità interpretative degli orari diversi, sarà una Cenerentola riformata in termini moderni. Ma che cos'è sta il bello? Che a partire dall'aperitivo e quindi a finire ai dolci finali, ogni piatto viene fatto da uno di questi sette magnifici, per cui ogni piatto poi sarà raccontato e ognuno ha una sua interpretazione dedicata all'estate, però con grande gusto superbo. Naturalmente è tutto coordinato dalla supervisione di Fabio Metto che, come voi sapete, gestisce la cucina di questo ristorante e poi assieme a Michele, a Polo Liguori, a Reagrazi e che vengono da San Paolo, bel sito di tutto e di più. Sicuramente una notevole occasione anche con dei vini molto interessanti. È tutto dovuto poi a dei sostenitori che sicuramente tu avrai modo di sottolineare. Tanti partecipanti che hanno potuto godere dello spettacolo offerto dal Golfo di Napoli. Come mai siete qui e soprattutto che cosa vi aspettate da questa serata? Noi siamo qui come sponsor, la location è bellissima, ci aspettiamo tante cose buone. Sappiamo che sono degli ottimi chef, i migliori, quindi siamo qui proprio per questo. Cosa vi aspettate da questa serata? Ci aspettiamo, come in altre occasioni, di provare qualcosa di diverso preparato da professionisti, anche se non ancora conosciutissimi e quindi ci aspettiamo di mangiare bene. Io a Villa Caracciolo sono di casa perché ho organizzato due edizioni di O Master Chef. Ci siamo molto divertiti e abbiamo mangiato bene, per cui mi aspetto la stessa cosa. Divertimento e una grande abbuffata di cose buone. Allora Silvio, che cosa si è aspettata da questa serata? Di divertirmi innanzitutto insieme agli amici ospiti, ma soprattutto di vincere il premio finale, quella fantastica Porsche che è stata... Ah sì, questa è una novità, quindi uno scoop per la sera. Li vedo perplessi, non è così. Ma se lei ha questa notizia mi vado a informare. Noi ci hanno detto di comprare il biglietto e tutto, nell'ingresso era compreso di questo sorteggione finale. Non è così. Beh, ci andremo sicuramente a informare perché la cosa interessa pure me. Allora sicuramente divertimento questa serata un po' particolare. Allora, in bocca al lupo! Chef and party, c'è un conviviale gioioso di inizio estate. Quest'estate che tarda ad arrivare e stasera che incomincia con questa festa che vuole essere solo un modo felice di essere assieme. Qui non si celebra la grande gastronomia, si celebra il buon gusto e la gioia di essere assieme. condividere la tavola, condividere dei buoni piatti di sette grandi amici, sette grandi chef. Questo il menù presentato dagli stessi chef. Si è iniziati con la frittura napoletana del Seicento del maestro pizzaiolo Gianfranco Iervolino di Villa Giovanna di Ottaviano. Diciamo che era tutto studiato, di minimi di portivano. Grazie. Stato eccellente, grazie a tutti. A seguire il manicaretto Donanna dello chef Fabio Ometo, resident di Villa Caracciolo. Questo sformatino di baccalà, provola, viaggerola e patate a profumo di timo, in crosta di zucchine su una salsa di pomodoro fresco e stile. Un piatto leggero, spero sia stato di vostro gradimento. Michele Grande, della Bifora & Ruffinskay di Bacoli, ha presentato i tre bocconi. Sono tre impasti totalmente diversi, tutti quanti fatti da noi. Si parte dall'impasto verde, che è quello al basilico, con questo gambero crudo e una crema di melanzane. Quello centrale è impastato con il nero di seppio, io lo chiamo il panino incavolato, perché sta sempre un po' nero. E all'interno una frittatina di cozze, un po' di menta per dare freschezza. Si conclude con pomodoro, peperoncino verde e alici fritte. Paolo Gramaglia, il presidente di Pompei, ha preparato il primo, un tuffo dal Vesuvio a Posillipo. Qualche vongola, una zucchina e il piatto è fatto. Ho l'ottima pasta che è stata fornita dal nostro sponsor e si è creato il conviviale. Maurizio De Riggi, del Marcus di San Paolo Belsito, ha presentato il secondo Non è Milano. Ho preparato Non è Milano, è un po' una provocazione alla cotoletta alla milanese. Quindi ho cercato di prendere un prodotto campano, quindi il calamaro del Mediterraneo. L'ho impanato come una classica panatura alla milanese, cotta come una classica cotoletta alla milanese. Quindi leggermente una marinatura del greco di tufo, poi viene fatta la cotoletta. Sopra una misticanza, quindi erbette fresche, valeriana, radicchio, insalata romana. Per dare una nota un po' più prolungata abbiamo deciso di mettere un infuso. Quindi abbiamo nebulizzato sopra aceto di riso e soia. Infine assaggio di la bufala acida, a cura di Ilaria Aulicino, del ristorantino Danini di Baia. In realtà è venuta fuori l'idea utilizzando uno yogurt di bufala che mi autoproduco, al quale ho aggiunto del latte di mandorla. Ho poi preso questa bontà, in particolare queste albicocche vesuviane, le pellecchiella, che sono di una divinità proprio... Unica, certamente. Unica, quindi l'ho poi prodotti in una forma di coulis, quindi una salsa leggera e poi per completare il piatto e da di croccantezza ho fatto questo stroisel alle mandorle e al quale poi abbiamo aggiunto un po' di pepe Voitvois Perry del Madagascar, che ha questo sentore poi fresco. Dolce con melanzana cioc di Imma Gargiulo, del Femmina di Sorrento. È una melanzana cioccolato, molti storcono il naso perché le melanzane si mangiano parmigiana, salate o crude. Crude? No. Quindi vi ho raccontato la storia della mia famiglia. Dalla parte del papà sono dei contadini e dalla parte della mia mamma sono dei pescatori. Quindi voi ci troverete nel piatto anche del sale. Quindi questa dolcezza estrema della cioccolata e della melanzana ho cercato di farvela sognare in riva al mare con uno sparago di mare e del sale, dei fiocchi di sale. Di sotto a questa melanzana cioccolato c'è una salsa di prugne rosse che in qualche modo dovrebbe aiutarvi ad abbassare il sapido che avete in bocca e l'acido vi aiuta a mangiare un altro pezzetto di questo dolce. Allora signora vogliamo sapere per Campi Flegrei TV Che cosa ne hanno pensato i bambini della scena? Perché noi sappiamo che spesso si muovono. Di solito quando mangio si muovono spesso però stasera si sono muosti in maniera molto più veloce. Era come se l'aspettava la serata? L'hanno gradito, hanno gradito anche loro. Grazie e tanti auguri. Grazie pure a voi. Voi vi siete divertiti? Sììì! L'evento è stato organizzato dalla giornalista enogastronomica Laura Gambacorta. Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia. E vabbè! Grazie! Grazie! Grazie!